Un saluto a tutti da Don Andrea Buffoli. Continuiamo il percorso della novela del Natale ascoltando Papa Francesco. Spesso i bambini amano aggiungere al presepe altre statuine che sembrano non avere alcuna relazione con i racconti evangelici. Eppure questa immaginazione intende esprimere che in questo mondo nuovo inaugurato da Gesù c'è spazio per tutto ciò che è umano e per ogni creatura. Dal pastore al fabbro, dal fornaio ai musicisti, dalle donne che portano le brocche d'acqua ai bimbi che giocano. Tutto ciò rappresenta la santità quotidiana. Ebbene, nel presepe ci siamo noi. C'è ciascuno di noi. Ciascun personaggio del presepe può avere il nostro volto perché la nostra santità quotidiana è camminare verso il Signore come hanno fatto i personaggi verso la glotta di Betlemme. Rinnoviamo quest'impegno. Arrivederci a domani. Grazie a tutti. Grazie. Grazie.